Bonsai TV ti dà il benvenuto al mese della salute mentale, 31 giorni di maggio, in cui ci impegniamo a vivere meglio e a fare del bene alla nostra mente. Ed è per questo che abbiamo compilato proprio per te una guida alle 100 piccole cose per migliorare la vita. Iniziamo con le prime 25. 1. Fai sport il lunedì sera. Non succede niente di bello il lunedì sera. 2. Se sei titubante su un acquisto, aspetta almeno 72 ore prima di comprarlo. 3. La fila più veloce al supermercato è quella dietro il carrello più pieno. Salutare, pagare e imbustare richiedono più tempo di quanto si pensi. 4. Porta sempre della frutta al lavoro. 5. Valuta di lavorare soltanto 4 giorni alla settimana. 6. Ognuno di noi ha un punto cieco emotivo quando litiga. Scoprilo e ricordatene la prossima volta. 7. Pianta pulbi primaverili. 8. Invia una nota audio al posto di un messaggio di testo. Sembrerà un piccolo podcast personale e scalderà anche il cuore, se non supera i 5 minuti. 9. Tieni una mangiatoia per uccelli vicino alla finestra, preferibilmente in cucina. Guardarli mangiare sarà un piacevole passatempo mentre laverai i piatti. 10. Porta sempre del ghiaccio alle feste in casa. Non ce n'è mai abbastanza. 11. Regola la luce. Evita gli sprechi inutili. 12. Affila i tuoi coltelli. Cosa te ne fai di un coltello che non taglia? 13. Non hai voglia di lavorare? Utilizza la tecnica del pomodoro. Alterna 25 minuti di lavoro a 5 minuti di pausa e ripeti così all'infinito. 14. Acquista un frullatore, anche economico, per tritare le cipolle. Risparmierai tempo e soprattutto lacrime. 15. Conserva i disegni dei tuoi figli. I ricordi fanno bene al cuore. 16. Riserva 10 minuti al giorno per fare qualcosa che ti piace, come leggere un libro o giocare a Call of Duty. 17. Se acquisti qualcosa in un negozio di beneficenza, beh, paga il doppio. 18. Riutilizza le buste di plastica. Cosa te ne fai di tutto quel materiale inquinante dentro casa? 19. Fai una foto al biglietto che ti viene dato quando lasci il tuo cappotto al guardaroba. Ti tornerà utile. 20. Non riesci a dormire? Prova un bagno rilassante con olio di lavanda prima di andare a letto. 21. Aggiungi il latte almeno un minuto dopo che il tè ha fatto la sua infusione. 22. Ridi senza vergogna delle tue battute. 23. Bevi un bicchiere d'acqua prima di andare a dormire dopo aver fatto serata. Diminuerà gli attacchi di fame notturni. 24. Inizia il sabato mattina con un po' di musica classica. Aiuterà l'umore del tuo weekend. 25. Osserva da vicino. La bellezza è nei dettagli. Se queste piccole cose non bastano, allora rivolgiti a uno psicologo. La salute mentale è importante. Vuoi scoprire le prossime 75 piccole cose per migliorare la vita? Allora iscriviti a BonsaiTV e ricorda che chi cambia canale è un malato di menta piperita. 7. 9. 2. Era 9 e non mi ricordo più c***o. edоновare l'abornare 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 la grazie. Kaiba!